Ciao amici insieme in cucina, sono Maria, oggi farò le ricine, conosciute anche come le gelovesi ripiene di crema pasticcera. Inizialmente gli ingredienti per la pasta piolla, crema le uova, con lo zucchero a base. Adesso spavolo e aggiungo lo sfrutto. e aggiungo lo sfrutto e aggiungo lo sfrutto e aggiungo lo sfrutto. e aggiungo lo sfrutto e aggiungo lo sfrutto e aggiungo lo sfrutto e aggiungo lo sfrutto. E' sfrutto. Piano piano penso che è l'acqua. e aggiungo lo sfrutto e aggiungo lo sfrutto. e aggiungo lo sfrutto e aggiungo lo sfrutto. e aggiungo lo sfrutto e aggiungo lo sfrutto e aggiungo lo sfrutto. e aggiungo lo sfrutto e aggiungo lo sfrutto e aggiungo lo sfrutto. e aggiungo lo sfrutto e aggiungo lo sfrutto e aggiungo lo sfrutto. Questa è la passafrolla più rustica, spianiamo la passafrolla. Ne prendo metà, l'altra metà ci servirà per dopo. La spianata, adesso con un coppapasta andrò a fare tutte le formine. Questa è la passafrolla. E li trasferisco nella taglia. Adesso metto la crema pasticciana. Adesso aggiungo il dischetto sopra. E lo ammacco leggermente. Adesso li metto in forno a 180 gradi per 35 minuti. Ti ho sfornato, ti ho sfornato di zucchero a pello e adesso li assalto. Ci vediamo alla prossima ricetta. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale e di cliccare la campanella. Ciao ciao, baci baci. I link della ricetta della crema pasticcera lo trovate in descrizione. Ciao. 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 Ciao.